A tagliare il nastro sono stati dei bambini, sono i ragazzini che vivono in un quartiere, quello di Pianura, dove è difficile crescere e dove la criminalità, la camorra, spesso prende il sopravvento sulla gente per bene. Dai più piccoli però parte una speranza di riscatto, è così che ha aperto ufficialmente le porte la nuova sede del commissariato di polizia di Pianura. La cerimonia in via Parro Cusimeoli, alla presenza del vice capo della polizia Alessandro Marangoni, il questore Guido Marino, il sindaco Luigi De Magistris e il prefetto Gerarda Pantalone. Napoli è al centro dell'attenzione nazionale, Napoli non è l'ultima città d'Italia ma una delle prime e quando c'è una criticità su Napoli ci si preoccupa a Roma di affrontarla e di risolverla, ha detto il vice capo della polizia Marangoni, ha sottolineato il potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio. Sono convinto che questa è una struttura non della polizia ma dei cittadini di Pianura, Pianura e i cittadini, la gente di Pianura, la gente di Pianura si deve sentire a casa sua perché questa è casa sua e significativo il fatto che questo commissariato sia in mezzo alle abitazioni, non è in mezzo a un giardino o su una spiaggia o chissà dove, è in mezzo alle case della gente, ecco perché la presenza della polizia di Stato oggi, come sempre tutta quella delle forze dell'ordine è in mezzo alla sua gente. I napoletani si meritano l'aiuto, i napoletani devono anche e si danno da fare perché questo aiuto arrivi, però vedete io in fondo al tunnel vedo la luce, dobbiamo essere propositivi, dobbiamo crederci nelle cose, vedete questo commissariato ci ha impiegato 4 anni per poter essere inaugurato, forse un po' lunghi va bene, però ce l'abbiamo fatta, in fondo al tunnel c'è la luce. Il questore di Napoli Marino invece ha invitato i cittadini a collaborare con la giustizia per contrastare la criminalità. La soluzione del suo problema deve passare, deve passare attraverso gli organi dello Stato e gli organi dello Stato hanno il dovere di accoglierlo in maniera dignitosa, in maniera confortevole, ecco perché dico che questo momento di oggi è importante sia per i cittadini che per i poliziotti di pianura nella stessa misura, però rendiamoci conto che non è soltanto il numero dei poliziotti per strada a fare la differenza, io credo che sia anche il numero dei cittadini per strada a fare la differenza, il controllo del territorio non lo fa soltanto la polizia, lo fa direi soprattutto chi vive, opera egregiamente e onestamente in visto da ribaldi.